Quando tutti si aspettavano il riscatto tra le mura amiche dell'Unitas Sciacca è arrivata invece una pesante sconfitta casalinga ad opera del Casteldaccia, che a sorpresa si è imposto al Gurrera per 1-2. Troppo poco hanno fatto i neroverdi per meritarsi i tre punti, con un tempo il primo regalato agli avversari. Unitas che, con 16 punti, resta esattamente a metà classifica, con due punti di ritardo rispetto alla zona playoff e con due punti di vantaggio rispetto a quella playout. Il tecnico Davide Boncore ha dato spazio dall'inizio al nuovo portiere appena arrivato, Giovanni Grotta. Nella prima parte di gara i neroverdi sono apparsi troppo rinunciatari, facendo vedere poco in avanti e con ritmi troppo lenti. Il più pericoloso, non a caso, è stato il difensore Otero su mischie in aria. Così gli ospiti, pur senza strafare, gestiscono le operazioni e si portano addirittura in vantaggio. Al trentasettesimo minuto, su calcio di rigore trasformato da Megna, rigore fischiato per un faldo del portiere Grotta su azione di contropiede e con palla persa dai padroni di casa a centrocampo. Nel secondo tempo lo sciacca entra in campo più determinato e voglioso di andare a recuperare la partita, ma un po' il portiere del Casteldaccia Marra e un po' i legni fermano dal rimonto a neroverde. Ad inizio riprese, infatti, ancora Otero, su colpo di testa, colpisce il palo a portiere battuto. Altre occasioni sono state mancate per un soffio dai soliti vivaci Secan ed Iraci, con Marra a fare ancora gli straordinari. La pressione a neroverde produce diverse occasioni, ma senza precisione sottoporta. Gli ospiti, a metà ripresa, restano addirittura in dieci uomini per via dell'espulsione diretta di Cardinale, ma poco dopo trovano anche il raddoppio con Bà, a seguito dell'ennesimo svarione difensivo della retroguardia di casa. Pallone vagante in aria, tutti fermi e Bà ne approfitta. Due errori, due reti subite. L'unità si sciacca prova nuovamente a rimontare, ma più con la foga che con il gioco. Si arriva così al novantesimo con Iraci che si guadagna un calcio di rigore, trasformato successivamente dal solito con Cialdi. Al novantacinquesimo, l'ultima chance con Licciardello, che sfiora il pareggio da buona posizione. Dopo sette risultati utili consecutivi, dunque, arriva la sconfitta per lo sciacca e ovviamente c'è delusione sia all'interno della società sia tra i tifosi.